Porcello, sardo Cioè nel giro di dieci minuti dovrebbero arrivare tutti però No, sotto il mezzo Ehi i peli Luca I peli peli Non crescono mai con una grigliata elana No Allora adesso hai finito, ti stai solo rilassando gli ultimi due giorni No, niente Come eravamo venduti a questo? Un docente No, ma siamo qui Perché non ho capito esattamente che cosa avessero capito di quello E lui in un attimo ha detto che il resto è inutile Se volete della macedonia c'è il gelato alla nocciola Nella macedonia c'è la banana No Fantastico Piatto È morta È così La ragazza è morta